115 anni di galera e questa è la pena che dovrebbe scontare Sam Bankman-Fried che proprio nella scorsa giornata, le scorse due giorni fa mi pare, è stato arrestato dalle autorità delle BAMAS alle due e mezza del mattino, ho pubblicato il tweet, c'ero solo io brevemente su Twitter, e c'è stata questa notizia, però in questi giorni si stanno andando a delineare una serie di questioni legate alla vicenda FTX e Sam Bankman-Fried che sono interessanti anche da andare a vedere per comprendere quello che potrebbe succedere agli utenti che ahimè avevano i fondi, me compreso ancora su FTX ragazzi. Allora, intanto le autorità delle BAMAS hanno arrestato Sam e ci sarà l'estradizione negli Stati Uniti, però quello che era la notizia che oggi volevo leggervi è questa qui ragazzi, cioè la questione legata a quanto anni di galera insomma sta rischiando l'ex CEO di FTX, 115 anni di galera. Oggi commentiamo un po' quelle che sono le notizie, ci aggiorniamo sulla questione di FTX, ci aggiorniamo anche su una cosa di cui è stato incolpato FTX, Sam e Alamida, perché è inerente alla questione del trading e dell'high frequency trading ragazzi, quindi vi aggiorniamo su una news che è uscita proprio questa mattina e ve la spiego perché è interessante anche andare a comprendere che cosa può succedere su un exchange quando si fa trading e perché nei mercati delle criptovalute, lo scalping oppure le attività di frequency trading devono tenere conto anche di queste questioncine, motivo per il quale a volte mi avete sentito dire non guardo i volumi sulle cripto eccetera, non faccio troppo intraday minuscolo, quindi lo scalping di pochi minuti, perché ci sono questi giochini. E' uscito fuori qualcosina e oggi lo andiamo a vedere. Facciamo un video crypto news molto veloce sulla vicenda, quindi di FTX, Sam Bankman, Freed, decade di, commentiamo insieme diciamo questo articolo, 115 anni di prigione che potrebbe in pratica ragazzi rischiare l'ex CEO e insomma è stato condannato, poi a volte nell'articolo più avanti si dice che i colletti bianchi poi non contano l'intera pena, però ragazzi 115 anni in pratica configurano quelle che sono 8 accuse ragazzi, 8 accuse di natura importantissima che adesso andiamo vi faccio vedere per cosa è stato accusato sempre in questo articolo. Allora, la questione è anche evidente da questa frase, cioè la questione è la PRODE, cioè è stato accusato di PRODE un lavoro svolto dalla FBI, quindi Federal Bureau of Investigation, dalla SEC e dalla Commodity Future Trading Commission, la CFTC, di cui tra l'altro adesso guarderemo anche l'altro articolo perché sono loro che hanno scritto la questione tecnica degli imbrogli che faceva Alamida su FTX per fare delle operazioni particolari che gli consentivano di avere un age sulle operazioni di trading molto rilevante in alcune situazioni. Tra le altre cose ragazzi qui c'è anche una cosuccia da andare a verificare, insomma questa PRODE è stata definita una delle più grandi PRODE finanziarie della storia, degli Stati Uniti perché l'entità della PRODE è abnorme, quindi intanto stiamo parlando di una PRODE e quello, uno dei principali capitacusa su cui Sam dovrà ribadire, fermo restando che ci sono anche delle notizie legate al fatto che nelle sue testimonianze lui continua a dare colpe agli altri, anzi addirittura dice che ha sbagliato a dare la guida al rei di FTX perché continua a dire che FTX era US, quindi quello americano era solvibile, quindi poi aveva i fondi. Però al di là diciamo di questo ragazzi si parla di una delle più grandi truffe della storia degli Stati Uniti, pensate un po' di che cosa stiamo parlando in questo caso e mi dispiace che è proprio il mercato cripto che ne risente diciamo in questo caso, anche se un po' con l'assenza delle regolamentazioni poteva in effetti starci, no? Una delle più grandi truffe proprio in questo settore. se non che andando avanti su questo articolo ragazzi poi si evince che è stato accusato anche di aver sottratto in pratica o abusato di miliardi, vedete qui, di dollari dei clienti per sostenere il fondo di Alamida, Alamida Research Crypto Fund e aver influenzato la politica degli Stati Uniti. Allora questo è anche una delle cose che bisogna tenere in considerazione perché uno dei capi di accusa di cui deve rispondere a questo punto Sam è anche questa cosa qui ragazzi, quindi aver cospirato e influenzato o tentato di influenzare la politica degli Stati Uniti. Questa è una cosa grave ragazzi, non è una cosa da niente, qui c'è da scrivere veramente una storia, un capitolo di storia, vedremo come si svolgerà questa indagine, questo caso giudiziario, ci faranno dei film, già la serie è avviata, però interessante perché ci sono tutti questi risvolti interni, quindi qui la questione è molto ampia e da questo derivano i 115 anni di galera che rischia Sam e non vi pensate che sia una cosa strana lo stesso Madoff quando fu arrestato relativamente alle questioni legate ai crash che aveva causato e al fatto che era presidente del Nasdaq eccetera e fu appunto mi pare denunciato per 130 anni, la sua causa è stata diciamo tirata fino a 130 anni, adesso non vorrei ricordarmi male, quindi non sono cose strane negli Stati Uniti questa questione dei multi ergastoli diciamo così. Quindi il fondatore di FTX ha pronta in pratica due cause di frode telematica che insomma sono le principali, poi scospirazione di frode e insomma accuse di riciclaggio, ognuna delle quali porta a circa 20 anni di galera su questa sentenza. non è finito qui perché ci stanno anche le altre frodi, quindi sulle commodity, cospirazione e altre frodi sulle security, insomma di tutto di più di queste insomma capi d'accusa con i quali rischi ha circa 5 anni, in totale quindi sono 115 anni, ma a noi quello che interessa in realtà è sapere se ci sono i fondi o meno, che cosa hanno fatto sui fondi, però già questo tipo di logica ragazzi è interessante andarla a vedere perché gli Stati Uniti non perdonano su queste cose, sono veramente molto aggressivi. C'è però questa altra notizia che vi volevo mostrare, cioè il fatto che FTX faceva questo giochino con Alamida, cioè in pratica dava una secret speed age, viene così definito dal CFTC e questo secret speed age è un argomento molto interessante perché che cos'è ragazzi? In pratica facevano via API collegare Alamida ad FTX in modo tale che Alamida potesse utilizzare l'API di FTX per fare il suo trading, le sue operazioni di trading, ma avevano uno speed age, cioè riuscivano ad arrivare prima sul mercato rispetto a tutti gli altri. Questo speed age, una specie di door, gli consentiva di piazzare gli ordini prima degli altri ragazzi, prima degli altri, cioè arrivare prima significa poter per esempio inserirsi tra un ordine di vendita e un ordine di acquisto e così facendo percepire magari quel prezzo prima degli altri e poi rivenderlo all'acquirente. In questo modo andando a creare una specie di slip age, si definisce così, andando a prendere quindi per esempio acquistare bitcoin, lo dico per dire, a 18.130, qualcosa e venderlo un po' più caro nell'istante di pochissimi millisecondi. Questo age fa sì che l'azienda in questione avesse una backomat attaccato ad un bot che fa market making in questo caso, crea però anche un vantaggio statistico, è un vantaggio non statistico, diciamo matematico, informatico, ecco, chiamiamolo se non vi vogliamo la parola, nei confronti di Alamida che poteva in pratica andare avanti, quindi fare un po' quello che voleva e utilizzare gli high frequency trading, gli HFT, quindi questi algoritmi che vanno a fare proprio queste microtransazioni per portare a casa profitto in pratica sempre senza rischi perché questo tipo di logica prevede che io vedo i prezzi di vendita, vedo i prezzi d'acquisto da un lato e dall'altro, vedo che c'è una possibilità di profitto, mi inserisco, compro al prezzo più basso, lo rivendo al microprezzo più alto, non pago commissioni, non pago niente, lo faccio perché ho un accesso informatico che velocizza questa trasmissione, mi infilo lì in mezzo e faccio ta 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 e così facendo in pratica porto a casa una specie di profitto stile Bancomat su migliaia di scambi, migliaia di operazioni. Il Commodity Future Trading Commission ha accusato Sam anche di questo ragazzi, quindi vedete qui la questione, questo è interessante perché ci porta anche agli occhi a un problema molto più vasto, cioè il concetto che in pratica questi tipi di strategie che si vanno a utilizzare, quindi quelle dei high frequency trading e le strategie di scalping velocissimo sul time frame a un minuto, cose del genere, nel settore delle cripto ragazzi devono tener conto di queste possibilità perché in realtà e concettualmente il fatto che Alamida avesse questo accesso su un exchange ci porta a riflettere sul fatto che altre entità potrebbero avere lo stesso tipo di accesso su altri exchange perché in realtà qui diciamo il basso di Pandora è stato aperto e noi vediamo dentro quello che c'era ragazzi ma secondo me pensare che siano gli unici ad aver fatto una cosa del genere è un po' un bias di iperottimismo, io non la vedo così, è un po' di tempo che vi informo sempre su questa questione legata al fatto che se fate scalping da un minuto time frame veloci o HFT sul mercato e le cripto siete un po' fuori perché tecnologicamente c'è questo problema, insomma visto che non abbiamo regolamentazioni precise, non abbiamo controlli precisi perciò è meglio proprio evitare di provare a competere con questi tipi di questioni. Però era veramente molto interessante andare a vedere come avevano anche creato una specie di vantaggio quindi di backdoor che dava a livello informatico, un vantaggio ad Anamida per poter rubare i prezzi migliori, chiamiamo così, a tutti i sistemi. In questo caso ragazzi andavano a ledere anche tutte le istituzioni che facevano high frequency trading sul exchange di FTX che tra l'altro aveva le API più veloci di tutti, questo ve lo posso assicurare perché le utilizzavamo anche noi con i nostri bot in maniera egregia, sicuramente le API più veloci ma nonostante questo, nonostante fossero non buggate, velocissime e tutto il resto erano riusciti a infilare lì dentro un mini bug per dare un age e un vantaggio di trading alla loro azienda. Pensate un po' quelle che invece hanno API che fanno collabrodi da tutte le parti, che cosa combinano in questo settore. Insomma, passo di Pandora molto aperto ma grandi riflessioni è il motivo principale secondo me ragazzi perché questo tipo di mercato dovrebbe essere affrontato con delle considerazioni di gran lunga differenti rispetto agli standard che magari ogni tanto andate a leggere su alcuni libri eccetera, ci sono delle questioni che vanno sempre approfondite e il mercato crypto ci insegna che approfondire queste questioni, la questione volumi, come vengono generati i volumi perché se loro avevano un HFT attaccato ad FTX praticamente i volumi erano tutti inventati da questa Alamida che faceva questi micro scambi in pratica e portava a casa il dindini, quindi i cash. Perciò volumi, importante andare a vedere. Order book! Andate a guardare l'order book e cosa vedete? Niente di tutto ciò perché questi tipi di operazioni non si vedevano neanche nell'order book, passavano indietro e facevano scambi diversi. Allora, tutto questo ci lascia riflettere moltissimo su quali strategie di trading devono essere applicate su mercati crypto che sono mercati non regolamentati e quindi ok considerare i volumi va bene perché intanto è sempre cultura e formazione, ok guardare l'order book perché va bene se avete un HFT riuscite a fare una strategia di trading va bene, ma ricordate sempre e comunque lo stesso vale per lo scalping, se riuscite a portare a casa cash con lo scalping fate lo scalping, fate quello che vi pare ragazzi, non sono motivi finanziari, ma ricordatevi che esistono queste cose qui ed è quello di FTX, un vaso di Pandora aperto, ma gli altri ancora non sono stati aperti, probabilmente non lo saranno mai ve lo dico, però non vi fate prendere da queste cose pensando che tutto sia rose e fiori e perché Tizio Caio sono più bravi, non sono più bravi, queste questioni informatiche esistevano anche sul mercato classico ragazzi, io personalmente l'ho vissuta una cosa del genere su una delle più grandi banche italiane, ai tempi era un piccolissima banca e quindi non era così, però mi sono passati avanti, mi hanno fatto il market making, questo giochino, personalmente l'ho vissuto, ero piccolino e quindi vi assicuro che queste cose le fanno e le fanno, quindi tenetene sempre in considerazione. Va bene, 115 anni a Stan Bankman, chi offre di più alla fine comunque non scappa perché 115 sono veramente tanti, anche che la sua colpa, diciamo, dei suoi pene dovesse essere ridotte ragazzi, da 50 anni, in 40 anni non glieli caccia nessuno, quindi vedremo come finirà questa questione, che ne pensate ragazzi? Mannaggio dove siamo finiti, ciao a tutti!